La notte dei lunghi coltelli rappresenta uno spartiacque geopolitico tra quello che poteva essere e non è stato, almeno fino a questo momento. E la notte del 27 dicembre 1947, quella in cui l'Assemblea Costituente cancellò il progetto della Regione Salento. Un progetto fortemente voluto dell'ex ministro Giuseppe Codacci Pisanelli. Lo statista salentino, ricordato oggi nella sua Tricasia, 35 anni della scomparsa, ha sempre sottolineato l'unicità della penisola salentina non assimilabile alla Puglia né geograficamente né per identità culturale e linguistica. Nato nel 1913 e morto il 2 febbraio 1988, insigne giurista per tre volte ministro, Giuseppe Codacci Pisanelli credeva fortemente nel valore della cultura come identità e motore dell'economia e del turismo. Fu tra i fondatori del Consorzio Universitario Salentino, primo rettore dell'Università del Salento e restò in carica per 20 anni consecutivi. Lo statista è stato il leader ispiratore del Movimento Regione Salento. Ricordiamo un grande padre di questa terra, il professor Codacci Pisanelli, un uomo impegnato nella politica ma un uomo di cultura, un uomo con una grande dirittura morale che ha fatto il rispetto dei principi, dei valori della solidarietà e della pace, la linea fondamentale del suo intervento, della sua azione politica. Sarà necessario continuare a ricordarlo e a farlo conoscere le nuove generazioni e a tal proposito impegnerò anche il presidente della provincia di Lecce affinché si attivi in tutte le scuole superiori con un grande concorso che possa far conoscere e valorizzare la figura di Giuseppe Codacci Pisanelli insieme a quelle dei tanti padri importanti e gli uomini e donne di questa terra. Il ricordo di Codacci Pisanelli non è soltanto un ricordo importante per Tricase, per il Salento, a me sembra per l'internazione, cioè ricordare i personaggi che si sono spesi, si sono illustrati per la patria è comunque il dovere di ogni italiano e noi siamo grati al dottor Pagliaro perché ha voluto in questo modo ripercorrere, ridarci quello che è una memoria storica che deve essere sempre viva ai nostri animi. Ma Giuseppe Codacci Pisanelli non ha ancora avuto l'attenzione che avrebbe meritato per quanto si sia speso per la valorizzazione del nostro territorio sul piano sociale, culturale ed economico. Ecco perché il Movimento Regione Salento, insieme al professor Wojtek Pankiewicz, riproporrà al rettore di Unisalento, Fabio Pollic, l'intitolazione dell'Università a Giuseppe Codacci Pisanelli. Se vogliamo proiettarci al futuro non possiamo dimenticare gli interpreti più meritevoli della nostra terra, lo dobbiamo a Giuseppe Codacci Pisanelli che è un vero orgoglio per tutto il Salento. Abbiamo pensato di iniziare questo percorso da oggi ogni anno di commemorazione di questo grande personaggio che tanto ha dato alla nostra terra e rilanceremo in questa occasione una battaglia storica del nostro Movimento che è quella dell'intitolazione dell'Università del Salento a Giuseppe Codacci Pisanelli. Pensiamo che sia un atto dovuto perché ha creduto nella cultura come elemento trainante dello sviluppo del nostro territorio, a differenza di altri territori che hanno avuto altre vocazioni e se vogliamo anche altri aspetti di grande criticità. La provincia di Lecce in particolar modo deve dare onore a questa grande personalità. Un omaggio doveroso a uno dei figli prediletti della nostra terra. Intanto il cune di Tricase è pronto a fare la sua parte. Un momento importante ricordarlo nell'anniversario della morte per noi è un inizio e sarà un nuovo inizio perché a breve dedicheremo proprio un'ala del Palazzo Gallone che diventerà centro della cultura speriamo di tutto il Salento e trasferendolo proprio l'ufficio romano compresi i mobili, compresi gli scritti importanti in questa struttura che è stata vita dei principi Gallone e poi momento amministrativo. D'ora in poi sarà non più momento amministrativo ma cuore della cultura del Salento. Alla cerimonia odierna erano presenti anche altri dirigenti del Movimento Regione Salento come la vice coordinatrice cittadina di Tricase Maddalena Antonaci dell'Abbate, oltre al sindaco di Alessano Osvaldo Sendardo e alla figlia dello statista Biancaneve Codacci Pisanelli. Io non so come ringraziarvi, è stata veramente una sorpresa meravigliosa e da parte di tutta la famiglia vi ringraziamo perché per noi il fatto che papà sia a Tricase e anche la mamma e mia sorella Evelina è bellissimo perché sappiamo che qui continuano a vivere perché le persone continuano a venirla a trovare e ricordano l'entusiasmo, la gioia con cui lui ha cercato di portare cultura e pace in questo territorio. Il nono Alfredo so che voleva tanto essere sepolto a Tricase. Grazie. 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 Grazie.